Buongiorno a tutti e benvenuti. Questo video vuole essere un video breve ma esaustivo su quello che è il mondo delle stable coins. L'idea è quella di iniziare ad approcciare questo argomento ma poi in futuro magari di riuscirne a fare degli altri legati appunto a degli argomenti di interesse comune. Ho creato una piccola presentazione per rendere i concetti un po' più schematizzati, un po' più chiari, cercando di tenere in considerazione quelle che sono le stable coins più utilizzate e quelle che io reputo allo stesso tempo più valide senza andare a complicarsi troppo la vita. Direi che possiamo partire subito. L'idea è quella appunto di fare anche una classificazione tra quelle centralizzate e le stable coins decentralizzate con i pro e i contro ovviamente di entrambe le sottospecie. La prima che analizziamo è quella anche più conosciuta ovvero Tether. Tether ha una market cap di 19 miliardi di dollari circa, dollari o più dollari o meno. E ho messo un paio di curiosità ovvero Tether in realtà nasce nel 2014. Prima del 2014 in quegli anni lì insomma si chiamava Realcoin. Era stata basata su blockchain di Bitcoin attraverso il protocollo Omni. Da lì poi c'è stata una serie di passaggi fino ad arrivare a USDT che sbarca appunto su Ethereum e sappiamo benissimo anche che si appoggia ad altri blockchain come ad esempio EOS, Tron, Algorand e OMG. Tether ovviamente è una società che assicura uno a uno il suo valore. Il problema qual è? Che appunto di contro, passiamo direttamente ai contro, le riserve non sono verificate. Ovvero non si ha un'evidenza di quello che effettivamente poi Tether ha. Non c'è una terza parte che verifica indipendente e non c'è un audit. Quindi sicuramente quello è il suo punto a sfavore. Il pro però è l'alta capitalizzazione di Tether che ci assicura una liquidità bella, ampia e disponibile. Soprattutto l'adozione degli exchange perché in praticamente tutti gli exchange troviamo le coppie di scambio con Tether anche sulle Alcoin. Quindi molto interessante quello e soprattutto poi dei fee di trasferimento perché oltre a Ethereum è anche un token che va su esempio Tron dove sappiamo benissimo che le commissioni sono veramente veramente basse. Quindi appunto l'adozione è la cosa più importante soprattutto per un Alcoin che poi andiamo a scambiare solitamente con Bitcoin o altri strumenti. Un'altra coin da sottolineare è USDC. USDC coin con una capitalizzazione drasticamente più bassa. Iniziamo ad andare sui 2 miliardi e 9. Sempre centralizzata. Essa nasce nel 2018 a fine anno. Lavora sempre più o meno come Tether. Quindi è scusate è un 1 a 1 è garantita però da un mix di contanti e di buoni del tesoro a breve termine. Interessante perché effettivamente non si basa solo su una base di liquidità ma va anche a integrare degli strumenti ovviamente con un rischio ridottissimo come i buoni del tesoro appunto che a breve termine usa non hanno granché di rischio. Ed è emessa da istituzioni finanziarie regolamentate quindi in questo caso da Coinbase, Circle e i partner. Importante perché comunque sappiamo che è una coin abbastanza trasparente. È un 1 a 1 appunto vi ho messo mixato quindi importante perché comunque andiamo a fare una differenziazione che è sempre importante. È regolamentata e sicuramente essendo emessa da Circle, Coinbase e da istituzionali ci dà una certa garanzia su quello che è il futuro. Insomma non dovrebbe collassare. Il contro però ovviamente è che è poco utilizzata come coppia soprattutto su exchange al di fuori di Coinbase e soprattutto sulle altcoin. Quindi bisogna sempre poi switchare da un USDC, solitamente ci portiamo su USDT quindi comunque sappiamo che paghiamo quella fee di cambio. Un'altra coin che invece secondo me è molto molto interessante è Binance USD. Questo perché? Perché in realtà la capitalizzazione di mercato è ancora più bassa perché è l'ultima centralizzata che vediamo oggi. Siamo sotto il miliardo. Nasce da un anno praticamente ed è messa in collaborazione con Paxos. Paxos per chi non sapesse è comunque un'azienda abbastanza importante e affermata oltre a utilizzare per stablecoin, oltre a fare il discorso stablecoin, fa anche Paxos Gold. Quindi quello che è un token ancorato al valore dell'oro con una riserva d'oro appunto certificata. Quindi è un'azienda abbastanza interessante. In più sappiamo anche che Binance USD è regolamentata dal Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York. Quindi viene fatto un audit sicuro, un audit mensile che viene poi anche pubblicato sul sito ufficiale. Quindi appunto abbiamo una garanzia che questi soldi esistano veramente. è emessa come token ERC20 ed è supportata poi dal protocollo ovviamente della Binance Smart Chain. Quindi ovviamente abbiamo quel vantaggio in più che va anche a ridurre potenzialmente le fee. I pro sono comunque che sì è legata a Binance, però Binance io lo reputo un exchange a rischio sistemico. Vuol dire che se salta Binance siamo veramente a grave rischio tutto il mondo delle cripto, anche per le giacenze che loro hanno. Le promozioni di Binance sono molto interessanti perché effettivamente per farmare ulteriori token dal launch pool o altre attività che fanno è interessante perché appunto molto spesso viene integrato BUSD. E ovviamente l'audit di cui abbiamo parlato prima. Contro è che fuori da Binance in realtà c'è un basso mercato per questo token difficile trovare al exchange che usano BUSD come coppia di scambio. Quindi sicuramente poi bisognerà passare su quello che è un'altra stablecoin. L'ultima che approfondiamo è DAI. DAI ecco è la soluzione decentralizzata. Cos'ha di interessante? Allora intanto abbiamo una market cap che arriva al miliardo, quindi un po' più di Binance Coin. Nasce anch'essa nel novembre 2019, anche lei è un anno circa ed è basata su Ethereum. L'emissione, lo sviluppo è gestito dal protocollo Maker, MakerDAO, quindi organizzazione ovviamente decentralizzata. È interessante perché il prezzo di DAI non è uno a uno come succede per le centralizzate. Ma effettivamente è un... possiamo dire che, come ho scritto, è soft ancorato al dollaro ed è garantito appunto da un mix di altre cripto volatili, ok? Che vengono depositate in degli smart contract ogni volta che appunto viene emesso un nuovo DAI. E' importante perché? Perché c'è stato appunto l'upgrade da quello che è SAI a DAI. Perché? Perché DAI è multicollaterale, quindi abbiamo detto un paniere di coin che non è legato solamente a un token, no? Quindi avere sicuramente più token all'interno di uno smart contract che fanno da garanzia va a darci anche una maggiore stabilità. Di pro abbiamo la decentralizzazione, quindi è totalmente decentralizzata, è indipendente, quindi non è emessa da un ente che ne determina domanda e offerta ed è multicollaterale, come abbiamo detto. Di contro ovviamente però cosa c'è? Che ci sono possibili forti fluttuazioni, come è anche successo recentemente su Compound. È stato fatto un pump del prezzo di DAI per riuscire a fare delle liquidazioni di prestiti collateralizzati su appunto il protocollo decentralizzato Compound, ma fa parte del gioco perché ovviamente tutto ciò che è decentralizzato è così. E ovviamente abbiamo il rischio di un hacking di smart contracts che possano sottrarci token, cosa che comunque io reputo abbastanza distante. Per il resto è un'ottima soluzione, infatti DAI secondo me è la soluzione primaria decentralizzata. Esisterebbero anche altri smart contract e altre tipologie di stablecoin che però non ha neanche senso andare ad approfondire per rendere un pochino il tutto più chiaro e più schematico. Io mi dirigerei su queste quattro stablecoin, ovviamente tutte le reputo abbastanza safe, abbastanza sicure. Quella di cui mi fido un po' meno è USDT, ma effettivamente se saltasse USDT dubito fortemente quello che è il futuro appunto delle cripto. Anche perché 19 miliardi che saltano in un secondo, ecco direi che mettono a repentaglio parecchi exchange e parecchi depositi delle persone. E appunto la reputo più sicura di quanto si pensi effettivamente anch'essa. Questo è tutto per oggi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, commentate, condividete. Saranno video prettamente educativi quindi su queste tematiche qua e basta. Una buona serata.